Ecco, adesso diamo la parola a Mohsen Muelli, lui è il vicario generale dal 2010 della confraternita SUF in Italia, è anche un interprete parlamentare, ambasciatore di pace, è nato in Tunisia ma è cittadino del mondo perché così attendendo ha visitato o comunque è stato impegnato o per turismo o anche per lavoro, per testimonianza in oltre 70 paesi, non conosceva ancora Ragusa, quindi gli mancava ancora la conoscenza di Ragusa sia dei luoghi ma anche della gente. Grazie Mohsen, a te la parola. Assalamu alaikum, che la pace di Dio sia con voi. Dio fai sì che la mia mente sia sgombra, che la mia lingua sia sciolta perché io possa dire qualcosa di sensato. Io sono diversamente italiano e diversamente credente, però decisamente cittadino del mondo. considero l'universo come lo disse Jabran Khalil Jabran, che il poeta libanese dell'immigrazione dove ho vissuto in Francia, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti, nel Libano, disse che la mia patria è l'universo, la mia famiglia è l'umanità. Prima di tutto dovrei ringraziare, per tantissime ragioni, per le bellissime cose che ho sentito, per lo scambio di esperienze e di sensazioni. E chi non ringrazia gli esseri umani non ringrazia Dio. Mi trovo qui, dopo aver sentito delle belle cose, quasi spiazzato perché tante cose avrei voluto dirle, però ne partecipo con l'accettazione di queste cose e la loro condivisione. Quello che volevo dirvi oggi, parlando di verità, era un foglio bianco dove ognuno poteva scrivere quello che voleva. Gli uomini sono venuti, l'hanno strappato, l'hanno buttato, sparpagliato, il vento ha fatto il suo lavoro e ognuno di noi trova un pezzo. Crede di essere l'unico possessore della verità. E la colpa della religione? Non credo. Perché noi sufi, i mistici, consideriamo la religione come la burocratizzazione dalla fede. Fai quello, non fai quello, non fare quello, via di seguito. Mentre la fede è una cosa che è al di sopra di tutte le religioni. Qual è il ruolo che noi dobbiamo avere? A tutti i livelli. Ricostruire il puzzle che abbiamo avanti per riprendere e ricostruire la verità. Magari facendo sopra la foto di un bambino, così non si riesce a fare, ricostruire come si deve questa cosa, col rispetto di tutto. Io appartengo a una famiglia interreligiosa e interculturale. Siamo quattro fratelli, abbiamo sposato quattro donne, non ognuno, una per uno. Perché è la cosa che si ricorda dell'Islam spesso, che si potrebbero al condizionale sposare quattro donne. Non so se lo ricordano per invidio o per pietà. L'invidia è che abbiamo quattro mogli e la pietà è che abbiamo più di quattro suocere. Bene, ho detto interreligiosa e interculturale come struttura della famiglia. Guardate che non ho usato multireligiosa o multiculturale. Perché quando si dice multireligiosa e multiculturale c'è una certa staticità. Mentre quando si dice interreligiosa c'è un dinamismo, un scambio di esperienze e via di seguito. Ma non si tratta di sincretismo. Perché vi do due esempi da me vissuti. Il primo, io sono cresciuto nella zona di Madia, che c'era una grandissima comunità siciliana che andava per lavorare, soprattutto perché è zona di pesca del pesce azzurro. E italiani, cristiani e tunisini usavano la pesca con lo strascico. Buttavano le rette fuori, sciabica, e poi le tiravano fuori. E gli italiani dicevano, dicevano, issa e argel, uissate, mentre i musulmani credevano che si stesse chiedendo a Gesù. Issa e argel. Primo sincretismo. L'altro sincretismo è il 15 di agosto, la festa dell'assunzione, dove il 15 di agosto avevano due significati diversi. Per noi tunisini la fine della balneazione, perché uscivano le meduse. E i cristiani erano la festa dell'assunzione. E tutti noi musulmani e gli altri eravamo dietro la statua della Madonna, alla Goletta, che era un paesino creato abusivamente da maltesi, da italiani. E dicevano, Maria, sei la nostra signora. Maria, sei il nostro standardo. Maria, a te il saluto è dovuto. Questi tipi di sincretismi, che non fanno male, ma aiutano la gente a convivere. Allora, si parla di dialogo interreligioso fra le religioni. Io dico che il dialogo dovrebbe essere fra uomini di religione. Perché le religioni non sono in guerra fra di loro. E chi dice che sta dietro uno standardo, quando mettono Dio dietro uno standardo, succedono le tragedie. E chi ti dice che uccide a nome di Dio, è un bugiardo, perché Dio lo può fare da solo. E nella pratica noi mettiamo in evidenza l'interpretazione del testo religioso fatto da uomini. Mentre il versetto venendo da Dio non contiene errore. E' l'interpretazione umana che ne fa di questo versetto un modo o un altro per combattere contro gli altri. Il problema è dovuto al nostro ego, alla nostra identità, come parlava prima l'amico Nello. e quando noi crediamo di essere gli unici possessori della verità, quando addirittura arruoliamo Dio dalla nostra parte, non c'è solo Boko Haram, c'è anche l'LRA, l'Army, Resistance Army of Lords, cioè la resistenza dell'armata di Dio, roba del genere. e addirittura i tedeschi nella seconda guerra mondiale l'hanno arruolato. Sulle fibie delle cinture troviamo Gott mit uns, Dio è con noi. E dall'altra parte chi c'è? Allora per i Sufi, noi mistici, ci chiamano anche il supermercato della spiritualità, perché quando troviamo una cosa buona dall'altra la prendiamo. e la prima cosa che dobbiamo sapere è che cosa dice la religione musulmana sulle altre religioni. Anzi, prima di vedere le altre religioni dobbiamo vedere che cosa dice la religione sulla religiosità. Questo è la sura seconda, la Giovenca, versetto 177. E se uno chiude gli occhi e senti, dici, non è solo Islam, ma di tutte le religioni. La religiosità non consiste nel volgere vostro volto verso Oriente o verso Occidente. La religiosità consiste nel dare dei propri beni ai parenti, agli orfani, agli indigenti, ai viaggiatori, ai mendicanti per la liberazione degli schiavi, non nel senso stretto, schiavi dalla droga, schiavi dalla pornografia, della pedofilia, schiavi, schiavi, schiavi dall'alcol, di tantissime altre cose. Nell'osservare la preghiera tutte le religioni ce le hanno. Nell'versario della zaket sono caritatevoli quelli che rimangono fedeli agli impegni assunti. E allora cosa facciamo? E che cosa dice la religione sulle altre, l'Islam sulle altre religioni? sempre capitolo secondo, versetto 62. Sì, i musulmani, gli ebrei, i cristiani, i sabei, chiunque ha creduto in Dio e nel giorno ultimo ha compiuto opere buone per costoro la loro ricompensa presso il Signore, su di essi nessun timore e non verranno afflitti. che vuol dire che noi non dobbiamo usare uno degli elementi come parlava prima l'amico sull'identità. Ma che cosa è composta l'identità? Di che cosa è composta? Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, color della pelle, sesso, statura e tutto. Che cosa abbiamo scelto di queste cose? Non abbiamo scelto nulla. Ha ragione per cui non li dobbiamo usare, non dobbiamo usare nessuno di questi elementi per andare a creare dei dissidi. E la prima tappa di questi dissidi come chiamiamo l'altro? Lo chiamiamo in diversi modi. Allora, si dice, allora, questo qui, scusate, allora, laico, ateo, non credente, miscredente, scettico, senza Dio, negatore, associatore, fuorviato, gente del libro, agnostico, eretico, addirittura fratello nell'errore. Io sono stato chiamato, quindi ci fa, un cristiano clandestino. Un'altra volta, un prete mi ha detto, lei parla come un buon cristiano. Ma guarda che le religioni, non è che siano in conflitto fra di loro, siamo noi che interpretiamo in un modo o in un altro quello che Dio ha dato per l'umanità. Il profeta Muhammad, che Dio lo benedica alla mia ingloria, disse, tutti i profeti, tutti i fratelli che mi hanno preceduto, hanno costruito una casa. E tutti quelli che passano, vedendo questa casa, dicono, ma che bella casa, peccato, manca una pietra, manca una mattonella. Io sono venuto per mettere quell'ultima mattonella e della compiutezza di quello che Dio voleva da Adamo fino a me, sigillo dei profeti. Dunque, noi siamo portati e il nostro ruolo non è di essere intermediari fra il vicino e Dio, ma di essere intermediari fra di noi per poter parlare. e il ruolo dei religiosi, degli appartenenti alla religione o chiamati maestri o sedicenti maestri o altro, allora uno deve dire non devi camminare davanti a me, questo lo devono dire le religioni, perché potrei non seguirti, non camminare dietro di me, perché potrei non esserti di guida, ma cammina al mio fianco. Così al mio fianco noi possiamo andare avanti insieme e affrontare le difficoltà. L'errore principale di questo, io uso un termine latino, ma è valido per tutte le religioni, ex ecclesia, nessuna salvezza. Che sia iglesia, che sia moschea, che sia sinagoga, pagoda e tutto, allora, perché tutti credono di essere gli unici possessori della verità volendola imporre agli altri. Il dialogo fra le religioni di una volta si sviluppava su due piani. Il primo piano devo far vedere che la mia religione è la migliore. Trionfalismi aziendali, no? Tifo da stadio. Se non riesco a dimostrarlo, comincio a denigrare la fede altrui. È quello che è stato fino adesso. Per fortuna, oggi abbiamo la possibilità di parlare e parliamo e il dialogo. Il dialogo non è il fine e il mezzo, non è il punto di arrivo e il punto di partenza. Purtroppo tanti non l'hanno ancora raggiunto e non l'hanno ancora capito. Però, con questo modo di pensare, io dico la ricchezza della tradizione, la siamo sapienziali o no, ci sarà anche la sapienziale, la tradizione che abbiamo, soprattutto noi usiamo il linguaggio, che è il vettore del nostro pensiero. Fin quando noi non puliamo, non disarmiamo il nostro linguaggio, non andiamo avanti. E questa è una richiesta, una preghiera che faccio ai giornalisti, cercate di non mettere le connotazioni etniche e religiose nei titoli degli articoli che si scrivono. Perché quando dico un sudamericano ruba o un rumeno così, un musulmano picchia la moglie e un tunisino scappa con la figlia o l'altro, non aggiungo nulla. Perché le notizie buone non fanno notizie, d'accordo, però anche queste notizie in più che si mette non aggiunge nulla. ma il problema principale per tutti gli esseri umani è la lotta contro il proprio ego. Noi Sufi abbiamo un corso che si svolge su sette anni. Sette anni questo è predeterminato perché seguiamo l'evoluzione degli esseri umani dalla nascita. Perché la prima cosa che un essere umano sente nel grembo materno è il suono. Quando nasce si dice ha dato la luce a luce. La terza parliamo di numero perché numero è la geometria, la determinazione dello spazio che ci circonda. Poi abbiamo la lettera, il valbettio del bambino. Poi la parola. La parola noi intendiamo di studiare tutte le parole di tutte le sacre scritture. Tutte no, quello che si può in un anno. Poi abbiamo quando uno impara a parlare impara anche la bugia. Si deve stare un po' attenti. E successivamente abbiamo il senso estetico che si si dice no, il simbolismo. Allora simbolo, questo. Io dico per esempio a voi la parola le chiese. Chiesa vi viene in mente? Mai dici il campanile, l'area centrale, l'altare, tutto. No, io ho detto le chiese perché volevo pensare al verbo chiedere, una forma del verbo chiedere. Perciò se noi togliamo la parola del contesto usciamo fuori dalla strada. Un altro esempio. Che differenza c'è fra lasciare e tenere? Uno dice l'uno opposto dall'altro. No, signor, io ti dico lascia il motore acceso e tieni il motore acceso. Che differenza c'è? È la stessa cosa. E dubbio successivamente abbiamo allora ritmo e simmetria che si collega con le cose principali. Il ritmo e simmetria non è a caso perché il bambino quando nasce si mette a piangere semplicemente perché non sente più il battito del cuore della mamma e li si mette subito sulla pancia per risentire sul pezzo della mamma per sentire il battito del cuore che aveva sentito per molti mesi, molte settimane. questa è la parte che noi studiamo teorica ma la parte pratica per l'evoluzione per la ricchezza è la lotta contro il nostro proprio ego. Iniziamo dicendo che dentro di noi abbiamo due lupi un lupo dove si sviluppa con l'invidia il sospetto l'odio la sovversione la cattiveria l'imbroglio l'ingordigia eccetera eccetera e l'altro odio l'amore la tolleranza la pietà la comprensione la misericordia l'aiuto la pazienza e via di seguito e allora lo studente chiede al maestro qual è dei lupi chi vince? Quello che nutriamo meglio è qui che comincia la strada perché il nostro ego ha sette strati numero sette un numero pleromatico investito di virtù magiche i sette giorni della settimana i sette peccati le sette note musicali i sette colori dell'arcobaleno le sette piaghe d'Egitto eccetera è piena le sette i sette chakra allora il numero sette che comincia con quel lupo che abbiamo dentro di noi perché abbiamo la parte umana e la parte animale dell'essere umano quando uno sbaglia e lì in questo momento come inizio non distingui fra reato e peccato do un esempio semplice in Italia per esempio la prostituzione non è reato ma è peccato il gioco di azzardo è peccato è reato se non lo fai nella struttura adeguata passare con il rosso è reato è un peccato se fai un macello ammazzi o altro diventa reato è peccato e più ne abbiamo più ne mettiamo e allora il primo atto di questo nostro comportamento nella nostra tradizione nel nostro modo di fare del nostro ego è di dare la colpa anzi cominciamo con quell'animo nostro che ci invoglia a peccare e si chiama l'animo peccatore in armo si dice nefsel ammar quello che ti invoglia ti fa bello il peccato la trasgressione e via di seguito ed è un lato del nostro aspetto animale successivamente uno comincia a pensare potrebbe può darsi che la colpa non sia tutta degli altri magari di noi tutti magari forse un po' il caso perché noi diamo adesso la colpa alla società all'educazione alla scuola alla televisione e tutto cerchiamo sempre di trovare uno scusante la scusa per poter continuare con questo nostro animo peccatore allora cominci a ragionare diciamo all'animo biasimatore che ti biasima e continui a cercare una spiegazione una una ragione di vita quasi poi alla fine ammetti che lo sbaglio è tuo e qui passi al secondo stadio in questo momento che cosa vuoi pretendi che la gente ti ringrazia pretendi che la gente ti loda ti incavoli se non ti loda e noi questi stadi li viviamo a livello di sogno il sogno viene interpretato dal maestro però col maestro deve avere un rapporto di amicizia di fiducia e anche di dirgli le cose che non piacciono magari l'odio che potresti avere a un certo momento quel lupo che abbiamo dall'altra parte ti dice tu ormai sai tutto inutile fare una cosa o un'altra visto che sai tutto ormai tuo maestro niente ti tiranneggia e basta e questo ego va avanti fino a quando salto le altre perché vedo che non c'è più tanto tempo arrivare all'animo rasserenato il bacificata e qui nessuno vedete che la battaglia contro il proprio ego non è mai vinta per sempre perché noi indirizziamo il nostro animo verso delle categorie perché il nemico è infatto di moda andate a vedere una partita di calcio una riunione di condominio la strada quando facciamo la fila davanti all'amministrazione sulla strada quando uno ci sorpassa o altre cose così perché il nemico lo abbiamo dentro il nostro DNA cosa ci vuole? per riassumere ci vuole una certa armonia l'armonia nasce anche con il dialogo ma il dialogo ha delle condizioni prima di tutto accettare la diversità l'uguaglianza e la scelta dell'interlocutore se io parlo con una persona che condivide tutte le mie idee non c'è dialogo non mi arricchisce e allora questo dialogo interreligioso va intrapreso in diversi modi quel modo principale che vorrei dire da artigiano da scienziato e da artista perché quando entri nel laboratorio di un artigiano non trovi le cose in serie fa un pezzo alla volta lo risistema lo rimodella o lo rifà se non nasce bene lo scienziato quando vai nel laboratorio non trovi delle teorie è già fatte lui sperimenta quello che dobbiamo fare con le altre persone perché non posso usare lo stesso linguaggio con tutti e indifigliare sempre per tutte le volte e l'artista è l'artista quello che è all'estero che è la fantasia che qualche volta le matto e così e con questo modo si raggiunge una certa unità a me piace molto il la come si dice la preposizione con mi permette di fare tantissime combinazioni con vivere con dividere con donare con passione con piacere per arrivare alla fine con vincere vuol dire vincere insieme e abbiamo detto noi sufi se lo dovessi mettere in pratica lo dovessimo mettere in pratica facciamo tanta strada insieme Dio è bello e ama la bellezza questa frase abbiamo Dio l'amore e la bellezza quello che basta per andare avanti d'altronde il verbo amare è un po' difficile da coniugare perché il presente non è indicativo il passato non è semplice il futuro non può essere che al condizionale e per concludere ancora uso una frase detta da madre Teresa di Calcutta amo tutte le religioni e sono innamorata di una sola bene Gialelli Dünrumi il nostro capo mistico che ha creato la nostra confraternica dei dervisci quelli che girano disse scrisse sulla sua tomba sul suo mausoleo vieni chiunque tu sia vieni anche se hai infranto cento promesse anche se è stato miscredente vieni la nostra casa non è la casa della disperazione la casa dell'amore è quello che Dio che voleva e ancora un altro proverbio malgasso che dice amatevi come la pioggia fine che non si fa sentire ma fa straripare il fiume grazie 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 per quello che ci hai donato credo che appunto il dialogo interreligioso interculturale così volendo un attimo dire il pensiero è che inizia proprio con la conoscenza e questa sera abbiamo avuto modo di conoscere andare alle radici di diversi aspetti e quindi anche questa pulizia del linguaggio che è un altro tema che ci accomuna molto ok sì la possibilità di qualche intervento io chiederei per favore di porre direttamente la domanda a uno dei tre relatori evitando magari di fare delle premesse proprio perché abbiamo solo dieci minuti abbiamo la possibilità di raccogliere due o tre domande per dare la possibilità di dare una risposta al relatore ecco chiedo sinteticità alla domanda domanda precisa anche ai nostri relatori prego Gian Piero lo faccio per mestiere Socrate ottimista cristianesimo realista in principio il peccato cosa pensa specialmente dopo l'enciclica di Papa Francesco dell'affermazione secondo cui invece in principio era la gioia come possono le religioni ritrovarsi insieme se non partendo dalla comune convinzione che in principio era la gioia e che il male è avvenuto subito dopo ma non prima grazie per la domanda no davvero grazie per la domanda ovviamente se lei anche solo remotamente volesse che io contraddica il santo padre penso che è lontano dal vero no no è in dubbio che su questo diciamo così con molta leggerezza possiamo giocare nel senso che dire che la gioia era in principio è un modo per dire che è più forte quindi non si tratta di vedere chi c'era prima perché poi ciò che c'è stato dopo è meno vero ma è più forte se mi è consentito saltare di immagine in immagine di metafora ma restiamo sempre nel mondo agreste vi ricordate la parabola della zizzania che è una parabola molto disturbante come era tipica di Gesù che probabilmente aveva anche questa astuzia di sapere disturbare per far pensare quindi non sono mai parole accomodanti sono parole che un po' stimolano il pensiero vi ricordate che la zizzania è un dubbio non è semplicemente una realtà del campo è un dubbio che hanno i contadini che vanno dal padrone e gli dicono ma signor non abbiamo seminato soltanto bene e da dove viene la zizzania vuoi che la strappiamo allora lui non risponde sull'origine della zizzania ma risponde sulla gestione della zizzania dice lasciate che crescano insieme e alla fine si farà la separazione questo al di là dello scenario finale di che cosa sarà alla fine i discernimenti finali eccetera dice la fiducia nella capacità della spiga di crescere nonostante la presenza della zizzania c'è una vis maggiore nella spiga nella vita di quanto la zizzania voglia cercare di toglierle ecco direi proprio così cioè l'idea del santo padre che sta naturalmente con immagini diverse in occasioni diverse con coinvolgimenti anche suoi diversi dai documenti alle omelie che sta volendo dire mi pare proprio questa la prima enciclica era la gioia del vangelo è questa la la forza della vita che poi per noi è quella della risurrezione è maggiore delle varie forze di morte e in un certo senso la sacra scrittura con altre immagini traduce lo stesso il realismo ci serve a non essere entusiasti pensando che tutto sia semplice ma sapere che la nostra è una gioia conquistata a caro prezzo con un con uno sforzo adesso io non voglio entrare nel magico mondo naturalmente di spiritualità non mie ma anche la spiritualità islamica ha una grandissima attenzione a questa dimensione dell'impegno jihad credo che sia proprio questo anche l'impegno a superarsi allora in questo senso non è che il peccato sia più forte la gioia è più forte però la nostra gioia è una gioia conquistata con un impegno a superare anche i limiti che fanno parte della nostra della nostra umanità e se volete anche l'ultima enciclica appena uscita ci presenta alcuni limiti della nostra società e su questo penso che ci sia veramente un messaggio lanciato a tutte le religioni che hanno a cuore la casa comune lui lo ha detto espressamente non si tratta semplicemente di un documento che ci riguarda come credenti cristiani cattolici esclusivamente ma riguarda tutta l'umanità che è ospitata in questa casa comune che è la terra grazie bene allora direi che possiamo concludere il nostro incontro grazie a tutti grazie a tutti